Grazie. Della costruzione del nuovo ordine europeo, diremo che c'è una questione di fondo. Perché i pianificatori francesi hanno deciso di estendere l'Unione Monetaria Europea a paesi come la Grecia, il Portogallo, la Spagna. E poi ad altri, come alcuni paesi dell'Europa orientale. Perché dovevano risolvere una contraddizione di fondo. In effetti, noi distruggeremo il consumo e il potere d'acquisto nelle economie nazionali della Germania e della Francia. Ma che dire dei profitti? Quindi, la soluzione è questa. Dobbiamo risalire al periodo di Mitterrand. La soluzione doveva essere l'esportazione. Esportare. Ma l'esportazione dove? C'è un punto fondamentale. Che troppe persone ignorano. I tedeschi erano estremamente riluttanti. Riluttanti ad entrare nell'Unione Monetaria. C'è stato un periodo, cari amici, soprattutto durante i primi anni 70, in cui la politica monetaria e fiscale era molto più espansionistica in Germania che non in Francia. Quindi, perché il regime di Mitterrand ha obbligato la Germania ad entrare nell'Unione? La risposta è semplice. La finanza che interessava ai politici tedeschi. Il governo Kohl era finanziato interamente dai fondi segreti francesi. E non è tutto. C'era un paese, un paese che era odiatissimo. Odiatissimo dall'establishment francese. Odiato per moltissimo tempo. E questo paese era proprio il vostro. L'ossessione dei tecnocrati francesi, degli economisti, era proprio di distruggere la base industriale dell'Italia. Perché accusavano il governo o i governi italiani di essere sempre stati troppo morbidi relativamente ai salari, sindacati e al potere d'acquisto. Pertanto, come si poteva distruggere l'economia italiana? Imponendo una rivalutazione della valuta. E quando l'Italia decise di adottare l'euro in concomitanza con la decisione di una rivalutazione di almeno il 45% dei prezzi. E pertanto, gli italiani non potevano più esportare. Non potevano più esportare al di fuori dell'eurozona. E quindi questo è un problema. Un problema che mi fa ridere quando la gente dice ma se lasciamo l'euro come facciamo? Sarà un incubo. L'Italia è stata completamente distrutta. Immaginatevi i prezzi relativi dell'industria italiana per esempio sul mercato americano per esempio immaginiamo se aumentassero del 40% le esportazioni italiane sarebbero crollate da un giorno all'altro. Quindi, perché l'Italia doveva essere eliminata? A questo punto si decise di sedurre anche la Grecia il Portogallo, l'Irlanda e per gli stessi motivi. per aumentare le esportazioni. C'erano paesi senza alcuna base industriale oppure la cui base industriale era completamente distrutta dall'impatto della valuta. Quindi l'Italia la Grecia diciamo così l'Europa meridionale l'Europa orientale sono diventati praticamente come dei mercati coloniali quindi nuovi mercati imperialisti per la Germania e per l'industria tedesca e francese. E poi c'è una questione a volte la gente dice oddio i tedeschi i tedeschi sono così qualificati sanno fare tante cose ma perché la Germania e la Francia hanno avuto la possibilità di esportare? perché c'era stata una precedente situazione da considerare degli investimenti il cosiddetto miracolo tedesco viene fatto risalire al regime nazista questa è una questione che ho studiato molto con il mio caro amico l'unico storico francese che ha avuto il coraggio di affrontare i moderni problemi a Rilacoura Ries durante il periodo nazista l'industria tedesca aveva tratto beneficio innanzitutto tratto beneficio da una mano d'opera quasi schiavizzata durante l'era nazista infatti era crollato il livello dei salari del 60% e durante la guerra le aziende tedesche più rispettabili per così dire avevano tratto beneficio da questa mano d'opera schiava assunta dall'SS e dai campi di concentramento al tempo stesso il regime investiva investiva miliardi miliardi di dollari di quel tempo nell'industria tedesca creando le basi tecniche che erano veramente molto avanzate e talmente avanzate da non essere ancora fruibili fino a più di dieci anni dopo la guerra e lo stesso è avvenuto in Francia comunque restano tanti altri problemi le esportazioni dobbiamo distruggere le esportazioni distruggere l'economia interna dell'Italia della Grecia ma da dove partire da dove devono venire poi gli introiti la risposta a questa domanda è molto semplice se consideriamo i dati aggregati delle esportazioni nette dalla Germania e dalla Francia fin dall'inizio dell'eurozona vediamo che i livelli sono identici ai defici aggregati di Stato dei paesi dell'Europa meridionale e orientale pertanto la Grecia l'Italia la Spagna hanno fornito dei profitti netti illimitati o una fonte diciamo di risparmio notevole per l'industria francese e tedesca l'85% delle esportazioni tedesche nette e questo vale anche per la Francia sono all'interno dell'eurozona ed è per questo che contrariamente a quello che si potrebbe dire non accetteranno mai il fatto che la Grecia o che l'Italia abbandonino pacificamente l'eurozona proprio per questo perché le corporation le grosse aziende francesi e tedesche si troverebbero improvvisamente a secco di utili quindi è assurdo sentire che paesi come l'Italia la Grecia sono accusati di essere responsabili dei propri deficit senza il deficit del vostro paese e della Grecia la situazione delle aziende francesi e tedesche sarebbe già di bancarotta ho una citazione di Jacques Attali del 1985 nella fase conclusiva del dibattito sul trattato di Maastricht dice il nostro obiettivo principale è di distruggere per sempre qualunque capacità industriale al di fuori della Germania e della Francia e quindi rimane comunque il problema del perché i governi del vostro paese della Grecia e della Spagna abbiano accettato un suicidio di questo tipo abbiano accettato di suicidare le proprie economie e le proprie società e questo è il problema cioè la questione della corruzione dell'ignoranza e e non dobbiamo mai dimenticare che si è trattato di un periodo in cui la Francia spendeva moltissimo per acquisire l'appoggio dei vostri politici e dei vostri tecnocrati della classe dominante la storia però è per certi versi ormai compiuta l'Unione Europea è stata creata ma adesso abbiamo un'altra questione da considerare e cioè la cosiddetta crisi finanziaria generata dal debito pubblico nel corso di svariati dibattiti amichevoli con gli amici americani io ho ripetuto che tale evento non può essere considerato come una crisi da instabilità finanziaria secondo l'analisi di Minsky Minsky non avrebbe mai potuto immaginare che il debito pubblico potesse generare quello che si potrebbe definire come la nuova peste nera che sta dilagando per l'Europa che cosa è successo allora i fautori del sistema dell'euro ignoravano completamente il meccanismo di funzionamento dell'economia moderna quel che avevano in mente era un qualche tipo di economia neo agraria diciamo di modello evoluto prima dell'avvento della rivoluzione industriale e quindi hanno tagliato la spesa pubblica il regime di Mitterrand aveva un programma deflazionistico nel 1983 quel programma fu il primo a essere mirato esplicitamente ad un incremento a lungo termine della disoccupazione e questa è stata la prima volta senza alcuna speranza di poter poi ritornare alla piena occupazione ma qual è stato il risultato il settore il settore privato improvvisamente ha smesso di investire gli investimenti privati interni in Germania e in Francia hanno cominciato a crollare e adesso siamo sotto zero i consumi sono crollati il gettito fiscale è crollato e quindi i governi un po' dovunque nell'eurozona hanno dovuto gestire delle situazioni di deficit ma si trattava di deficit inattesi e indesiderati che non rappresentavano la controparte diciamo così di una spesa produttiva e sono stati sorpresi da tanto che ignoravano i fondamenti dell'economia moderna non avevano mai sentito nominare Lerner eccetera eccetera ma questi deficit esistevano andavano gestiti non avevano più alcun controllo sulla creazione della moneta e a questo punto erano obbligati e devo dire erano anche molto felici di esserlo perlomeno in Francia e in Germania erano obbligati ad andare a chiedere soldi ai cosiddetti mercati dei bond e che cosa sono i cosiddetti mercati dei bond è un cartello un cartello composto dalle banche più importanti di Francia e Germania non esiste la minima concorrenza fra le banche appartenenti a questo cartello e quindi le banche sì dopo mi è stata posta una domanda se posso nominare quali sono stati politici italiani pagati dai tecnocrati francesi devo dire che su questo punto sono d'accordo con Henri Lacroiris tutti i democristiani negli anni settanta e soprattutto con un impatto molto forte della chiesa e del Vaticano non dobbiamo mai dimenticare che fin dall'inizio la chiesa ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione dell'Europa e adesso i governi sono stati obbligati ad accumulare il debito e le banche ci si sono buttate ci sono buttate sui titoli di Stato perché perché non c'era più la volontà da parte delle aziende tedesche e francesi di chiedere credito e quindi a questo punto la spada è diventata troppo accumulata il debito di Stato quindi si è trasformato in una specie di miracolo una cornucopia miracolosa un paradiso per le banche che potevano imporre i tassi di interesse che volevano pertanto i veri tassi di interesse fin dall'inizio degli anni settanta hanno raggiunto livelli mai raggiunti fin dagli ultimi giorni dell'anzien regime e quindi siamo ritornati ai tempi di Maria Antonietta e di Luigi XVI comunque c'erano effettivamente dei problemi da una parte il debito pubblico che è diventata la fonte principale di reddito per le banche d'altra parte però lo Stato veniva considerato come un'azienda cattiva da eliminare e quindi il valore reale del debito è crollato adesso quindi ci troviamo ad entrare nel grande mistero della nuova peste nera la crisi del debito pubblico è partita dalla Grecia e perché la Grecia non si è comportata in maniera scioccante assolutamente no il governo greco è stato obbligato ad aumentare la spesa dato che il settore privato in Grecia era completamente assente ma la Grecia era comunque un paese debole e adesso le banche hanno cominciato a temere sempre di più la possibilità che ci sia un cambiamento di politica economica e quindi che cosa hanno fatto hanno aumentato diciamo i limiti della bancarotta dello Stato greco di fronte alla possibilità di default da parte dei greci hanno dimenticato quindi che il default l'insolvenza è un problema che è sempre esistito ma quello che avevano in mente non era assolutamente il timore di un default quello che avevano in mente era di imporre sempre di più uno sfruttamento finanziario sempre più terribile in tutta Europa le banche non vogliono avere la restituzione del debito che cosa ci farebbero di tutti quei soldi non ci farebbero niente quello che vogliono è avere un reddito la peste nera è partita dalla Grecia e si è diffusa un po' come nel Medioevo si è diffusa e dilagando in tutta l'Europa e se di crimine si deve parlare si tratta di un crimine perpetrato dai governi francese tedesco che hanno praticamente ceduto completamente la propria sovranità al mercato dei bond è stata un'abdicazione totale e come hanno potuto farlo lo hanno fatto avviando una corsa mortale all'inflazione e adesso ci troviamo ad attraversare la fase più terribile di crollo e di morte dell'economia europea per mantenere il patrimonio netto delle banche i governi impongono la deflazione la deflazione ancora deflazione ed effettivamente questo è l'inizio della fine per il sistema e voglio concludere così questa presentazione grazie 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 grazie